Codemasters, quelli di Wipeout presentano o quelli di Colin McRey o Colin McRey helicopter presentano un gioco Bella Sara, bella troia. Fammi leccare il bucetto. Il bucetto, dammi il bucetto Sara. Sembra un po' nautistica. Non sbaglio o Sara si è appena fatta di qualche tipo di afetamina strana? Sì, sarà chetamina. Vai. Firenze. No, ma tu sono i modelli... No. No, 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 no. No, 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 no. Indiana? No. Indiana. Signor C. Nordica. Ha detto di sì lei, però. Italiana. Boh. Siatica. Cosa c'è? Cosa c'è da ridere, signori? Facciamov'è la rbicchiara. Schintone. Adesso ascolta. Nel paddock. Voi nel paddock, qui dentro dai. Ancora. Guarda se si capisce un cazzo di sottile. Ti senti i cuori... Non può essere il gioco più gay della storia. Questi non sono cuori comunque. Oh, lo carezzi. Clicca con il maro sinistro. Tagli una sverla sul culo come piace a noi. Oh. No, che meraviglia. È felice però, eh. Beh, ma tu non saresti felice se bella Sara ti masturbasse. Un uovo di cavallo. No, penso che sia uno stronzo di cavallo. Si, si, si. Vabbè. Si impianta, porca troia, sta troia di merda. Come, come? Niente. Ma si impianta. Si impianta. Si impianta. Salta stronza. Non è Epona che salta da solo. Epona. No, Epona si salta da solo. Esatto. Guarda lì. Oh, il buchetto. Il buchetto. Il buchetto. Il buchetto. Ma è di buchetto. Si, questo qua è un gioco per bambine. Ma si, è anche un bel gioco per bambine. Ma crescono strane se giocano sta roba. Si crescono nere e strane. Ma quello è un micro a cavallo. Ah, si, si. Questa è una citazione che... Che capiranno tutti perché l'ha visto tutti. Non va più, non va più. Comunque lì c'è qualcosa di strano. Io voglio vedere che cos'è. Vedete il buco del culo del cavallo? Si, comunque ci sono una serie di cose strane. Non sto guardando altro che il buco del culo. Ma niente. Se quello vuoi è una figa o un buco del culo? Ma come è entrambe in un unico buco? Fa la cacca dalla figa. 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 Fa la qua dal culo. Ma quello è normale. Guarda, guarda, guarda. Eh no. Persino sto gioco è più intelligente di Skyrim. Si, si. Andiamo nel paddock a dargli qualche buona legnata al nostro cavallo. Tipi, cosa è sta merda? Una sirena a cavallo? Una sirena a cavallo, zio cane. Ah, sono le carte che ho collezionato. Bella. La time pint. Andiamo la prossima. Alibi. 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 Colibri. Ok, questo è un cavallo indiano con un totem che fa la lingua. Poi c'è Achilles. Vedi che c'ha il tallone con dentro Aero in the knee. E' il tallone di Achilles. C'ha detto, no, ma dai. Eh si. Fa comunque. Cos'è la terza icona sta roba qua? Accoppiamento. Vedi che c'è una specie di schizzo. Però non riesco a capire il terzo... Fagli una spazzolata. Esatto, spazzolata. Spazzolata per il porco. Non c'è. Cosa cazzo spazzolo? Il fieno. Vieni. 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 Non c'è. Dato via. Proviamo di nuovo che era buggato. Eccolo qua. Stavolta di un cavallo. Vai, vai. Vai con quelle mani. Su. Lavora con quelle mani. Eccola. Eccola lì la spazzolata. Happy ending? Happy ending. Non sta andando su di un cazzo? No. No. C'era una battuta, signor Z. No, 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 no. No, 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 no. No, guardate. Eh sì, l'ho scritto a metà. È andato su di un pixel. Non direi che il mio cavallo è più che a posto. la cervicalità. Tutt'anno me tagliano le gengive. Vieni che c'è! Non prendo la metà? Vieni niente! Vieni niente! Vieni niente! Vieni niente! Vieni niente di penne! Vieni niente di penne! Vieni. Vieni niente di penne! sulle gengive il titinizio me lo faccio già il fatto che ti sei fatto male dammi un po' di beh finisci l'avete dalla canna ce l'era il tuo bicchiere e c'è un'altra sotto per codino